Mi è semblato di aver visto un gatto, diceva Tweety, il noto personaggio dei cartoons. Ma io questa frase, diciamo, mi torna in mente sempre mutuata in Mi è semblato di vederle un antipapa. Ecco, l'articolo di oggi di Riccardo Cascioli sulla nuova bussola quotidiana è intitolato Con la chiesa o con gli usurpatori, ognuno decida. L'articolo commenta l'ennesimo pezzo suo avvenire intitolato Accompagnare i ragazzi che vivono con disagio la propria sessualità è un impegno per la chiesa. La solita manfreina per sdoganare il vizietto, no? Lo sa benissimo Riccardo Cascioli che infatti commenta, dice È vero che l'articolo di Moia non può essere attribuito automaticamente alla CEI Però non si può essere così ingenui da pensare che certi articoli, soprattutto la ninia tenuta su un argomento così delicato Non sia ispirata dall'alto o comunque goda dell'approvazione dei vertici della CEI Infatti non si tratta di un episodio isolato ma di una campagna vera e propria che dura da anni E punta a convertire tutta la chiesa italiana al verbo omosessualista Compresa una pressione piuttosto esplicita su movimenti e diocesi Perché si occupino di pastorale LGBT Vi rendete conto? Allora, c'è il quotidiano dei vescovi Che spinge per lo sdoganamento del secondo dei quattro peccati che gridano vendetta al cielo Dice Cascioli giustamente Non ci si può prendere in giro O sbaglia la parola di Dio e il modo con cui la chiesa l'ha sempre interpretato Oppure sbaglia e di grosso avvenire con tutti i vescovi che spingono in quella direzione Non è un caso che Moia a sostegno della sua tesi non possa citare nulla della tradizione della chiesa E deve anche forzare a Moris Letizia Siamo al cospetto di una nuova chiesa che sta prendendo il possesso della chiesa di Cristo Come del resto aveva visto Paolo VI in quella riflessione raccontata dal filosofo francese Jean Guitton nel 77 Ciò che mi colpisce quando considero il mondo cattolico è che all'interno del cattolicesimo Sembra talvolta predominare un pensiero di tipo non cattolico E può avvenire che questo pensiero non cattolico all'interno del cattolicesimo diventi domani più forte Ma esso non rappresenterà mai il pensiero della chiesa Allora Quanto ci vogliamo girare intorno ancora? Basta no? Non siete stanchi? Non siete stanchi di sentire le stupidaggini anticristiche promanate dal falso giornale dei falsi vescovi a venire? Non avete ancora capito che cosa è successo? Siamo al cospetto di una nuova chiesa che non che sta prendendo il possesso della chiesa Che l'ha già preso E quando è che l'ha preso? L'ha preso il 13 marzo 2013 Anzi addirittura direi prima dal 28 febbraio Anzi a essere precisi dal 1 marzo 2013 Giorno in cui Papa Benedetto è entrato in sede impedita Ed è rimasto il Papa prigioniero confinato esiliato Che ha dato spazio a un antipapa anticristico ovviamente E questo non lo dice Cionci ma lo dice lo stesso Benedetto XVI Che come conferma Sevald quando gli pone la questione di Agamben Dice ma le dimissioni di Benedetto sono state la prefigurazione della separazione Fra la chiesa di Cristo e la chiesa dell'anticristo Benedetto non nega affatto Ma dice sì anzi Nella chiesa ci sono persone che sembrano cattoliche ma non lo sono affatto E viceversa Allora ogni giorno che perdete A girare intorno alla questione Come il gatto intorno al topo Che non gli dà mai la zampata finale Ma si limita a osservare il guardingo, il topolino A intimidirlo, a minacciarlo Però non lo finisce mai Ogni giorno che perdete ci sono Dei danni incommensurabili Dei danni incommensurabili Sia per gli altri che anche per la vostra testata La quale passerà alla storia come l'ultima che aveva capito la questione Vi ricordo che il vostro buon Papa Francesco col Munus Petrino Che governa in forza del Munus Petrino come dice lui stesso E quindi assistito dallo Spirito Santo Ha detto recentemente che Anche le transessuali sono figlie di Dio Mi ha fatto riflettere un lettore su questa frase Diabolica Diabolicamente costruita Le transessuali sono figlie di Dio Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che c'è un'accettazione del fatto Che le transessuali non sono maschi Che si sentono donne Che poi procedono a trattamenti Di operazioni di vario genere Ma sono delle donne Che sono finite nel corpo sbagliato Perché Dio si è sbagliato Capite? Perché Dio Nell'ottica agnostica Non è quello che credete voi Il buon Dio creatore Che ti dà un corpo Eh, quello è il tempio del tuo spirito Te lo devi gestire tu E te lo devi tenere No! Il Dio creatore è un demiurgo cattivo Quello che ha creato la materia Capite? Quindi se uno si sente donna È una donna E si è sbagliato Il demiurgo cattivo Creatore della materia Quando la finirete di supportare Questo vescovo gnostico Che crede nel Cristo Lucifero? Non avete capito ancora chi è? Ma l'avete letta la Bibbia? Cioè l'avete letto Il profeta Daniele San Giovanni I padri della Chiesa Li avete letti questi scritti? Avete letto il catechismo All'articolo 675 Ci sarà una prova finale Con un'impostura religiosa Che mette al centro l'uomo E offre la salvezza Al prezzo dell'apostasia Della verità? Dobbiamo farvi un ripasso? Non avete ancora capito Chi avete di fronte? Continuate a fare i vaghi La Chiesa degli usurpatori C'è già stata C'è già la Chiesa degli usurpatori E' quella che si è impadronita Della Chiesa di Gesù Cristo Il 13 marzo 2013 Con il Santo Padre Benedetto XVI Che è stato costretto in sede impedita Ah ma perché non l'ha detto apertamente Benedetto XVI Che era in sede impedita? Perché era in sede impedita Accidenti E in sede impedita Uno non può parlare liberamente No? E te lo deve far capire Però poi l'inchiesta di Cionci E' fantomatica Capite? E' fantomatica Come dice Cascioli Vabbè che vi devo dire Tenetevi il buon Papa Francesco Col suo munus di nylon E intanto per tutte le persone Che non hanno mandato il cervello all'ammasso Vi aspetto il 18 a Bergamo Il 19 a Trento Il 20 a Mantua L'8 settembre a Torino Grazie Un caro saluto a tutti